Quando ero passato? Ora si riuscì a fare un po' di 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 un po'. No, no, prima ero stata un po' indietro, un po', 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 un po' di un po' di un po', un po', un po', un po' di un po'. Il problema è che ero su. E' chiamata, ci sono, ci sono, ci sono improvvisamente, mi è arrivata la colata e via. A pieno. Ci sono veloci, ma ci sono leggeri, un po' di un po' di un po'. Per quel momento da tremere. Un sei, tre, o un 6,9-8. Sei pieno! Sei pieno, pieno! è vicino alla croce se vuoi aggiustare il mirino no, ti vedevo la coca è perché sei passato da te no, da qua sei pieno no, perché di là lui vede la coca giuro non vede come noi tra l'altro mi so che ci mi sono in ginocchio hanno un po' di ginocchio perché si cambia il baricino io appena c'è una balla niente non c'è una balla niente 5 alle 2 vicino al nero la prima piazzola lui lui non gollava forse un 6 di riga basso tirava un vento al momento non sei preparato a bere così tanto vento sì 5 a mezzogiorno è inutile che preghi oh mangio il vento sì non puoi andare che vada via vento è inutile che vada via vento è inutile che vada via vento